Musica Bentrovati, nuova edizione del Tg della Domenica. Si fa sempre più drammatica la situazione in Turchia e in Siria. Sono in partenza due operatori di Caritas italiana per supportare le popolazioni colpite dal terremoto ed è stata anche attivata una raccolta fondi. Vediamo il servizio. Manca l'acqua potabile, l'elettricità, le vie di comunicazione sono interrotte, c'è bisogno di tutto. Sono queste le parole del Vescovo Paolo Bizzetti, vicario apostolico dell'Anatolia e presidente della Caritas in Turchia. Dopo il terremoto che ha colpito il sud-est della Turchia e il nord della Siria. Si fa sempre più drammatico, infatti, il bilancio della catastrofe. I bisogni umanitari sono enormi. Gli stessi uffici delle Caritas locali coinvolte dal sisma sono rimasti danneggiati, rendendo complicata l'operatività. A questo si aggiungono anche le condizioni meteorologiche avverse, con neve e temperature sotto lo zero, che rendono i soccorsi più complicati. In Turchia la Caritas, in coordinamento con le autorità locali, sta accogliendo gli sfollati nei luoghi all'aperto, che al momento restano i più sicuri, distribuendo coperte e pasti caldi. In Siria la Caritas locale era già attiva in gran parte del territorio colpito da prima del terremoto, con programmi di assistenza umanitaria, sanitaria e riabilitazione economica. Un'area particolarmente complessa che accoglieva già molti sfollati di una guerra che ancora focolai di conflitto. Servono prima di tutto cure mediche per i feriti, alloggi di emergenza, cibo, acqua potabile e generi di prima necessità, dichiara il direttore di Caritas Siria. L'ente italiana ha espresso vicinanza, solidarietà e cordoglio alle chiese locali ed è in costante contatto con Caritas Turchia, Caritas Siria e Rete Caritas Internazionale, per sostenere l'organizzazione degli aiuti e il coordinamento. Due operatori sono in partenza per Istanbul per affiancare Caritas Turchia nella gestione dell'emergenza considerata la complessità e la dimensione della crisi. Presentato a Bari, nella sala riunioni della Direzione Generale Trasporto, il protocollo d'intesa tra la Ferro Tramviaria e l'aeroporto di Puglia. Vediamo. Vorrei mutuare le parole del Presidente di Ferro Tramviaria. Dobbiamo unire cuore e cervello, nel senso che noi dobbiamo fare una scelta strategica, continuare a fare parcheggi o incentivare al massimo l'utilizzo di questo mezzo, che è anche molto conveniente. La riduzione della CO2 si ottiene solo offrendo una valida alternativa. Il Piano Nazionale degli Aeroporti ha definito una connessione, un'interconnessione con le ferrovie. La nostra grande intuizione, parlo dei pugliesi della Puglia, è stata quella di avere un passante ferroviario all'interno dell'aeroporto di Bari. Dobbiamo sfruttarlo al massimo e fare in modo che gli altri tre scali siano coperte nello stesso modo come Bari. Quindi è un percorso che parte, ne parleremo sempre di più, rendendolo accessibile anche dal punto di vista economico. Nel 2022 abbiamo trasportato 640 mila viaggiatori, di fatto raddoppiando i viaggiatori trasportati nel 2019 nella fase anti-Covid. A luce di tutto questo, ma noi abbiamo sempre saputo, che il collegamento ferroviario-aeroportuale aveva una sua valenza trasportistica importante, non fosse altro per l'esplosione poi anche turistica nel nostro territorio pugliese. I nostri rapporti con Aeroporti di Puglia sono sempre stati di strettissima, grandissima collaborazione, ma ci siamo confrontati più volte verificando che la crescita dei viaggiatori aeroportuali corrispondeva alla crescita che stavamo avendo sul trasporto ferroviario. Abbiamo ritenuto che fosse il caso di valutare la possibilità di portare avanti delle attività condivise di valorizzazione del trasporto ferroviario e quindi di fatto di favorire questa intermodalità tra il trasporto aereo e il trasporto ferroviario. Il trasporto ferroviario, come sapete, è comunque un trasporto ecologicamente sostenibile e l'idea di Aeroporti di Puglia di incentivare l'uso del treno fa sicuramente onore ad Aeroporti di Puglia che ci ha concesso attraverso questo protocollo di poter aumentare la visibilità dei nostri servizi all'interno dell'aeroporto. I progetti del piano regionale di trasporto prevedono che entro pochi anni la nostra rete sarà interconnessa alla rete nazionale questo consentirà a treni di arrivare all'aeroporto di Puglia dal sud della Puglia quindi da Lecce, Brindisi, da Taranto e da nord tramite la stazione di Barletta quindi anche da Foggia si potrà arrivare al caro Viti. Stiamo parlando di un progetto estremamente complesso che in gran parte è già realizzato e ritengo che in prospettiva la Puglia avrà veramente un sistema di trasporto intermodale unico in Italia. Si è svolta a Canosa di Puglia la riunione dell'Osservatorio sulle tensioni economico-sociali l'organismo creato per raccogliere e analizzare i fenomeni di maggior impatto sulla popolazione del territorio. Vediamo com'è andata nel servizio. Un tour utile a conoscere dinamiche sociali e problematiche economiche è un viaggio nei comuni della provincia di Barletta Andrea Trani per comprendere le difficoltà dei singoli territori coglierne le fragilità e affrontarle per prevenire problemi legati alla sicurezza e all'ordine pubblico. È l'obiettivo dell'Osservatorio sulle tensioni economico-sociali è costituito proprio per analizzare le singole realtà territoriali e che si è riunito a Canosa di Puglia dove rappresentanti delle forze dell'ordine, associazioni di categoria, camera di commercio, sindacati e partenariato economico hanno fatto il punto sul paese che vive situazioni legate all'abusivismo, all'assenza di servizi nelle aree industriali ancora da urbanizzare e problemi di inagibilità delle aree più antiche. Importante diventa la collaborazione della cittadinanza. In questo caso, essendo proprio un osservatorio che vuole cogliere quelle che sono le tensioni sociali e possibilmente prevenirle, è importantissimo che le associazioni, la cittadinanza parli. Lo spopolamento dovuto alla mancanza di luoghi di aggregazione giovanile resta uno dei nodi da sciogliere e Arca, che si occupa di immobili pubblici, ha dato disponibilità di 14 locali commerciali da trasformare in presidi di legalità che va tutelata anche, come hanno chiesto le associazioni, con una maggiore presenza delle forze dell'ordine per rendere il senso di sicurezza pervasivo nella cittadinanza. Fondamentale sarà agire insieme, muovendosi nella stessa direzione. Troppo breve partirà una cabina di regia con la ragioneria territoriale dello Stato per un controllo effettivo, anche sotto il profilo contabile, ma come monitoraggio essenzialmente. Conoscere e comprendere diventano così sinonimo di prevenzione e anche delle infiltrazioni nell'economia della criminalità organizzata. Facendo comunità, facendo sistema, potremo risolverle con loro, la forza dell'ordine, i comuni, le associazioni di volontariato, la società insieme, la società civile, risolveremo, tenteremo di risolvere i problemi delle nostre amate città. Servono più controlli e nuovi limiti di velocità per garantire sicurezza sulla rete viaria della provincia di Barletta-Andriatrani. Lo sostiene il presidente della provincia, Bernardo Lodispoto. Le risorse scarseggiano e garantire la sicurezza della viabilità sulle strade della provincia di Barletta-Andriatrani diventa sempre più complicato, soprattutto perché tutte sono rischiose per buche, asfalti rattoppati e in coscienza di chi guida. Lo spiega il presidente della provincia, Bernardo Lodispoto, che nelle scorse settimane ha chiesto e ottenuto un incontro col prefetto Rossana Riflesso, una riunione a cui hanno preso parte anche esponenti delle forze dell'ordine, Anas e Aci, tutti convinti che fare un monitoraggio della situazione stradale sia il primo passo per decidere quali interventi operare, facendo sempre i conti con le casse che langono. Le aree a rischio sono quasi tutte, ma non solamente nella provincia Bat. Se si fa una passeggiata nella provincia di Bari o nella provincia di Foggia è uguale, per mancanza di risorse economiche, perché noi abbiamo 600 chilometri da manutentare, ma non riusciamo certamente a manutentare. Stiamo mettendo in sicurezza con diversi milioni di euro che abbiamo ricevuto da finanziamenti attraverso il Ministero delle Infrastrutture. Sto parlando non solo di strade, ma anche di scuole, però posso chiaramente dichiarare che sono totalmente inefficienti, non garantiscono assolutamente. Imposizione di nuovi limiti di velocità e maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine sono le soluzioni più immediate a favore della sicurezza stradale. Adesso dovremmo prendere delle precauzioni sulle strade provinciali di contenimento della misura di velocità, anche se già la segnalitica è presente, però ovviamente bisogna stare più attenti con il maggior controllo da parte della Polizia Locale, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Finanza. È un concerto sinergico che bisogna portare avanti per evitare ulteriori decessi. Ci spostiamo ad Andria, dove il gruppo politico di Fratelli d'Italia ha organizzato un incontro per fare il punto della situazione sul nuovo ospedale di Andria. Vediamo. Al momento quello che è stato realizzato dalla direzione generale dell'ASL è stato un preliminare avanzato per poi trovare le risorse processionali per fare un apporto integrato. Questo ad oggi non è ancora avvenuto. Questi anni siamo stati seppur critici, però favorevoli a un percorso che avrebbe essere il territorio con dei presidi ospedalieri più degni di nota. Però non è più possibile. Bisogna alzare il livello del confronto perché non vorremmo che questa adesso diventi una diatriba col governo nazionale perché magari la regione a distanza di dieci anni comincerà a dire abbiamo bisogno di tutti i soldi che il governo ci deve mettere a disposizione. Nel frattempo altri soldi in altri territori sono stati stanziati e credo che Andria dovesse essere una priorità dopo quello di Taranto. Ricordo gli anni 2009, 10, 11, 12, quando si sono avvicendati diversi assessori regionali e anche l'assessore dei lavori pubblici amati. In quelle delibre di giunta Andria doveva essere la prima subito dopo Taranto e invece siamo arrivati i penuti. Io mi sono fatta fornire un po' di dati dal ministero e il ministero chiaramente ha aperto un tavolo con tutte le regioni per cercare di capire a che punto sono le opere, le infrastrutture dell'edilizia sanitaria. A novembre la regione Puglia ha mandato dei dati, insomma dei fogli Excel dove sono tutti i dati di tutte le opere in corso per quanto riguarda l'edilizia sanitaria e per quanto riguarda l'ospedale di Andria stiamo ancora allo stato di validazione del progetto. Niente di più. Quindi possiamo dire che in dieci anni non è cambiato assolutamente nulla. Contro tutte le fake news questo governo sta mettendo dei soldi, sta mettendo dei soldi anche nella sanità. Chiaramente sono soldi che per il momento andranno a smaltire le liste d'attesa, a risolvere tutti i problemi che ci portiamo dietro dalla pandemia e dai passi indietro che sono stati fatti per quanto riguarda la sanità. È intervenuta l'autorità garante della concorrenza del mercato per chiarire l'uso e l'impiego delle acque madri e dei fanghi a scopo non terapeutico di Margherita di Savoia. Eservizio. Una svolta storica che dopo 99 anni segna un decisivo passo in avanti verso la chiarezza nella gestione delle acque madri e dei fanghi della salina di Margherita di Savoia perché a definire i contorni di un'intesa stipulata nel 1922 rinnovata ogni quarto di secolo è arrivato il parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato che rende disponibili per uso non terapeutico le acque e i fanghi che possono ora fare da leva per l'economia del territorio perché il protocollo firmato da Comune, Atisale e Terme stabilisce una fornitura di 6.000 ettolitri anni di acque e 16.000 di fanghi che verranno assegnati in base a precisi criteri. Adesso riprendiamo l'attività che avevamo sospeso perché avevamo già indetto un'approvazione il 28 luglio del 2022 l'approvazione di uno schema di avviso pubblico per chi volesse utilizzare le acque madri e i fanghi e quindi adesso riprenderemo subito questa manifestazione di interesse e verificheremo se abbiamo un'imprenditoria locale che veramente è interessata all'utilizzo di queste acque ovviamente sono aperte non solo all'imprenditoria locale ma anche a tutta l'imprenditoria che volesse partecipare e prendere iniziative in attività produttive collegate ai fanghi e alle acque madri escludendo l'utilizzo per uso terapeutico. Il parere dell'autorità si è reso necessario dopo che delibere, riunioni consigliari e screzzi politici avevano creato una situazione di stasi che imbrigliava a quanto stipulato dal protocollo in cui le terme sono disponibili a non ostacolare il progetto comunale e a non impedire a Datisale di accedere alle richieste dell'ente riservandosi però di esprimere un giudizio vincolante sui concessionari. L'impiego delle acque e dei fanghi può aiutare alcuni settori produttivi. In particolare nell'utilizzo dei cosmetici dove come sottoprodotti ci sono circa 25 elementi che si possono produrre un settore che va avanzato sostanzialmente oggi possono fare piscine di acque madri possono utilizzare le acque madri escludendo il termale perché la legge impone che ove esiste già una società termale nel territorio non è possibile duplicare l'attività questa per disposizioni legislative e anche per disposizioni regionali. Il Parco Nazionale dell'Altamurgia punta a nuove forme di turismo per scoprire il territorio in armonia con la natura la cultura e le tradizioni dei luoghi nell'evento verso un turismo esperenziale e sostenibile è stato presentato il progetto Fiera Nazionale dei Parchi del Turismo Green in cantiere nel Parco dell'Altamurgia. Vediamo. Oggi abbiamo voluto riunire la comunità del Parco per presentare innanzitutto questo progetto innovativo la Fiera dei Parchi in occasione dei 20 anni del Parco Nazionale dell'Altamurgia che ricordiamo è stato istituito nel marzo del 2004 vogliamo presentare questo ambizioso progetto vogliamo trasformare la Fiera di Gravina la Fiera che ricade nel Parco Nazionale dell'Altamurgia in una vetrina di tutti i parchi italiani raccontare il patrimonio naturalistico nazionale raccontare il turismo natura che si sta sempre più sviluppando nel nostro paese raccontare il patrimonio enogastronomico racchiuso nei parchi ma vogliamo anche oggi presentare la prima guida sui 13 comuni del Parco e la prima proposta di turismo esperienziale sul Mandorland su uno dei prodotti identitari del Parco che è la mandola di Toritto. Quello che intorno al Parco Nazionale dell'Altamurgia si può costruire non può far altro che non solo aprire questo territorio a un turismo che vive intorno alle esperienze il suo punto più alto ma può essere un'occasione per la Puglia per diversificare e per ampliare l'offerta turistica. La Regione Puglia punta molto tra i suoi prodotti turistici sul tema della sostenibilità che possiamo realizzare con dei prodotti che sono assolutamente nuovi sul mercato io penso a questo territorio come un territorio facilmente attraversabile dai camminatori e quindi una rete di cammini che può rimanere ammaliata dalle bellezze dell'Altamurgia penso a ciò che si può fare con il bike con la possibilità di promuovere percorsi di ciclovie in questo territorio penso alle bellezze paesaggistiche che accompagnano l'Altamurgia e che degradano fino all'Oionio quindi un mix assolutamente significativo. Il narcisismo digitale la sfida di non perdere le relazioni a questo è il titolo del nuovo lavoro scritto da Antonio Picicco presentato nei giorni scorsi a Giovinazzo Una serie di riflessioni nate dall'esperienza social sul senso delle relazioni nell'ottica di una comunicazione digitale raccolte nel libro Il narcisismo digitale La sfida di non perdere le relazioni il terzo di una trilogia scritto da Agostino Picicco attualmente impegnato presso la Direzione Comunicazione ed Eventi Istituzionali dell'Università Cattolica di Milano l'autore ha presentato il suo volume nella Sala San Felice di Giovinazzo sua città di origine e con un filo di ironia delinea quelle che sono le tipologie di utenti gli incontri virtuali l'invadenza di chat che rischiano di soffocare i partecipanti nel caso in cui manchi un adeguato approccio Noi siamo abituati abbiamo studiato a scuola Cartesio che diceva cogito ergo sum e un filosofo dei nostri giorni Nansi dice che bisogna coniugare l'ego sum con l'ego cum quindi facciamo un passo avanti oggi ma non è solo l'io o l'altra persona individuale con il tu ma proprio con l'altro in generale con l'altro che può avere anche delle diversità di razza di nazione rispetto a noi ma che diventa che fa parte però della nostra umanità Alla serata hanno partecipato anche gli studenti del liceo classico Matteo Spinelli proprio per sensibilizzare i giovani ad un approccio corretto dell'uso delle piattaforme digitali Il cellulare il digitale quasi quasi è diventato un sostituto dell'educatore della mamma del genitore dell'educatore stesso sappiamo che adesso è aperta la questione se il telefonino a scuola si o no ma noi dobbiamo cercare di far comprendere ai nostri ragazzi in modo particolare che devono avere un motivo in più per lasciare i loro telefonini il motivo in più siamo noi per cui raccontiamo le storie amiamo i ragazzi cerchiamo di infondere loro maggiore fiducia per noi verso di noi mettendoci in ascolto dei loro problemi cercando di condividere con loro le gioie ma anche le fatiche di vivere sono convinto che ci riusciremo dal 25 al 28 febbraio prossimi al teatro Mimesis di Trani andrà in scena Amore non esisti il primo atto unico scritto dal poeta e marinaio Giuseppe Isim Laurora la regia di Marco Pilone Amore non esisti è l'opera inedita del poeta e marinaio tranese Giuseppe Isim Laurora che al teatro Mimesis di Trani dal 25 al 28 febbraio porterà in scena uno scambio tra prosa e poesia il racconto dell'incontro tra due persone due corpi e due anime in un bar Amore non esisti non è altro che un discorso tra me e l'amore ho questa lotta interiore tra me e l'amore un sentimento che non riconosco come sentimento primario ho un'altra visione che va oltre l'amore stesso perché io credo in un amore più alto C'è uno scambio tra prosa e poesia chi vincerà? Vincerà Isim che praticamente lui alla fine è vero che lui non crede in questo sentimento ma alla fine lo scrive perché fondamentalmente lui vuole innamorarsi quindi vince l'amore Protagonisti dell'atto unico saranno Elvira Ferrante e Cristian Di Filippo con le incursioni di Laurora che reciterà alcune delle sue poesie il writing è a cura di Gaetano Ermito e Marco Pilone al quale è stata affidata anche la regia le musiche originali sono di Giuseppe Di Pinto e Gaetano Ermito è nata l'idea di rendere questo inizialmente un corto teatrale però si trattava in effetti di qualcosa di estremamente breve quindi l'ho rielaborato inserendo naturalmente una sceneggiatura abbastanza variegata dove tutto quello che Giuseppe ha pensato viene rielaborato e in un certo senso è esposto al pubblico in una maniera che spazia appunto dalla poesia alla prosa tranquillamente Sono due le associazioni culturali tranesi che hanno aderito e supportato il progetto artistico Lebanista e Teatro Mimesis realtà quest'ultima che in via Palagano accoglie e offre alla comunità preziosi momenti di spettacolo e condivisione culturale La mission è quella di dare spazio a varie attività di natura culturale l'intenzione è anche di coinvolgere persone anche nuove nel mondo della cultura e quindi incentivarle presentarle al pubblico al pubblico cittadino Si chiama Riflessi è il primo album da solista di Riccardo Lorusso musicista andriese che scrive e compone i suoi brani sin dagli esordi e studi musicali l'ha intervistato per noi Damiana Dorotea Sgaramella Riccardo Lorusso è un musicista andriese che sin dai suoi esordi e studi musicali scrive e compone i suoi brani sulla base delle esperienze e delle innumerevoli sfumature del suo percorso artistico è nato Riflessi il suo primo album Riflessi nasce dal bisogno di mettere in musica tutto ciò che ho vissuto in questi vent'anni di carriera ed è nato questo progetto Riflessi che appunto sono riflessi del mio percorso artistico riflessi oltre il significato aulico che ha l'album proprio della mia anima musicale insomma che ho voluto condividere con il mondo le melodie dei brani di Riccardo spaziano dal pop al rock acustico ed elettronico una miscela di sonorità differenti dal ritmo coinvolgente in questo ambizioso progetto si è avvalso della collaborazione di altre personalità del mondo della musica e soprattutto suoi amici ho avuto la fortuna di creare questo progetto con delle persone stupende primo fra tutti Francesco Dettole ho registrato nel suo studio nel Frams studio che sono l'Andrea e insieme a lui un altro mio amico un altro poeta delle nostre terre che è Diego Civita che è di Andrea quattro testi ad esempio abbiamo scritto a otto mani in realtà il testo però quattro testi sono di ispirazione di Diego e due brani ho avuto la fortuna di suonare anche con Enrico Riccardo Riccardo si esibisce in tutto il territorio nazionale vanta collaborazioni internazionali di spessore negli Stati Uniti e Cuba dove ho avuto la fortuna di suonare con artisti come Frank Fernandez che è un'istituzione mondiale pianista e compositore oltre che pedagogo e Larizza Bacagliau che è stata nominata al Grammy Cosa porti dentro di te a casa da questo primo progetto musicale tuo? Porto tante belle emozioni vedere amici conoscenti ma anche perfetti sconosciuti che cantano i miei brani vuol dire che le mie emozioni sono arrivate al pubblico e non solo tutti i miei brani sono arrivati perché ognuno racconta una parte di me è una parte della mia vita artista e confronta le mie esperienze con quelle di chi le ascolta e questo per me è veramente emozionante Ed è tutto per l'informazione di oggi grazie per essere stati con noi vi auguro buona domenica buona settimana Grazie a tutti Grazie a tutti.